Unlimited Mondiali, prima! Abbiamo deciso, dopo tanto tempo, di ricreare le maglie con cui ho festeggiato i miei nove mondiali. Lo abbiamo fatto per dare la possibilità ai tifosi e a tutti gli appassionati di rivivere quei momenti di grande gioia e di grande felicità. Ogni maglia ha una storia a sé, sia per come è andata la stagione e sia per come l'abbiamo festeggiata alla fine dell'anno. Quindi dietro ogni maglia ci sono persone, aneddoti, storie divertenti che poi vi racconteremo. Quindi divertitevi e ciao a tutti!